Pierpaolo Pasolini è probabilmente l'ultimo grande intellettuale italiano che abbia avuto una dimensione e una audience, in primo luogo, internazionale. E' un mito vero e proprio della nostra cultura a partire da un evento davvero epocale che fu la sua morte violenta, il suo assassino il 2 di novembre del 1975, che ha rappresentato per almeno due generazioni di italiani quasi la fine dell'età dell'innocenza, quasi il culmine più violento e il punto di interruzione dell'intero dopoguerra, una morte che può essere associata solamente a quella nell'immaginario popolare di Aldo Moro, avvenuta meno di tre anni dopo, nel maggio del 78, ad opera delle Brigate Rosse, come voi sapete. A proposito di Pasolini e del suo rapporto con l'Italia, si parla letteralmente di vera e propria profezia. Quando cominciò a scrivere sui giornali alla fine della sua vita e persino inventò il mestiere di intellettuale e opinionista sul Corriere della Sera, tra il 73 e il 75, questi articoli confluiranno poi in scritti corzari e lettere luterane, si inventò una vera e propria grammatica, un lessico per spiegare un paese che solo negli ultimi dieci anni era divenuto un paese di capitalismo maturo, un paese di consumatori e non solo di cittadini. Leggeva queste trasformazioni nei capelli lunghi dei ragazzi più giovani, li chiamava spesso falsi contestatori, cioè ragazzi che si opponevano i padri per prendere il posto dei padri borghesi, tant'è vero che in un articolo poesia del 68 dopo i fatti di Valle Giulia a Roma, polemicamente si schierò dalla parte dei poliziotti figli del popolo contro i giovani borghesi contestatari. La sua presenza da molto tempo dava scandalo, Pasolini con la sua opera plurilingue di poeta lirico, di romanziere, di cineasta, ricordiamo alcuni titoli più famosi, nella poesia Le Ceneri di Gramsci, nella prosa Ragazzi di Vito e una vita violenta, nel cinema Cattone, la ricotta, il Vangelo secondo Matteo, aveva collezionato qualcosa come 33 processi che toccavano sempre, diciamo così paradossalmente, un punto di italianità, erano percepite sempre come offese alla religione di Stato, così allora si chiamava, al senso della decenza e del comune pudore. Pasolini restituiva in qualche modo, in termini intellettuali, queste frustate, queste percosse di una pubblica opinione che era molto divisa al suo riguardo e parlava rispetto all'Italia che è finalmente moderna, finalmente compiutamente capitalistica, addirittura di genocidio delle culture popolari, di omologazione, cioè di riduzione di tutto il panorama umano, sociale, politico alla forma della merce, parlava infine di universo orrendo, quasi che questi nuovi consumatori, dimentichi del loro passato di povertà e di indigenza, fossero più o meno loro malgrado diventati dei cannibali. Chi abbia visto l'ultimo suo film, Salò o le 120 giornate della città di Sodoma, sa che il cannibalismo è la forma estrema della appropriazione delle cose e dei corpi portata dalla civiltà capitalistica. E per questo si metteva una maschera da italiano antico. C'è una sua poesia bellissima che fa leggere al regista protagonista del film, del mediometraggio La Ricotta, la storia di un cineasta velleitario filisteo che vuole riprodurre la passione del Cristo ma la bestemmia in realtà in termini commerciali. L'attore è Orson Welles, la voce che lo doppia in italiano è la voce grande italianissima di un altro pari dal punto di vista intellettuale e artistico di Pasolini che è Giorgio Bassani. In questo frammento pronunciato per la voce di Bassani da Welles, Pasolini si autodefinisce un reazionario alla lettera, ma è una maschera appunto. Io sono una forza del passato. È una poesia. Nella prima parte il poeta ha descritto certi ruderi antichi di cui nessuno più capisce stile e storia e certe orrende costruzioni moderne che invece tutti capiscono. Poi attacca appunto così. Io sono una forza del passato. Solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai borghi dimenticati sugli appennini e sulle prealpi dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo per l'appia come un cane senza padrone o guardo i crepuscoli le mattine su Roma, sulla ciociaria, sul mondo come i primi atti del dopostoria cui io assisto per privilegio d'anagrafe dall'orlo estremo di qualche età sepolta. Mostruoso è chi è nato dalle viscere di una donna morta e io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più. Ecco, non è nemmeno un caso che dal fondo della crisi in cui oggi versa il nostro paese il nome di Pasolini ritorni tante volte nei termini della profezia. Già una decina d'anni fa quello che è uno dei nostri maggiori storici, Guido Crains, in uno dei testi divenuti classici della storiografia italiana, Il paese mancato, titolo eloquente, a suo modo pasoliniano, bene, Guido Crains mise sulla copertina di quel libro che racconta la profonda, spasimante contraddizione italiana, proprio il volto severo, quasi la maschera di pietra, di Pierpaolo Pasolini, che scruta in un vuoto dove c'è, per lui, anche il futuro del nostro paese. Il canto popolare, 1952-1953 Improvviso, il 1952 passa sull'Italia. Solo il popolo ne ha un sentimento vero. Mai tolto al tempo, non l'abbaglia la modernità, benché sempre il più moderno sia esso, il popolo, spanto in borghi, in rioni, con gioventù sempre nuove, nuove al vecchio canto, a ripetere ingenuo quello che fu. Pure nella sua grandezza di poeta, di cineasta, di saggista, ci sono studiosi come Alfonso Berardinelli che addirittura reputano la saggistica di Pasolini l'apice di questa produzione così incandescente, magmatica, che ha più la forma di una costellazione che di una bibliografia, ecco, pur essendo Pasolini tutto questo e vivendo, come pochi altri, di luce propria, tuttavia non è stata l'eccezione di una regola culturale nell'Italia tra gli anni 50 e 70. Probabilmente Pasolini ha rappresentato l'estremo di una regola, nel senso che grandi figure di intellettuali critici erano i suoi interlocutori. Non è affatto vero come qualcuno oggi tende a dire che parlasse al deserto e in un deserto. C'erano di fronte a lui, davanti a lui in veste di antagonisti e nello stesso tempo di suoi collaboratori intellettuali, figure per esempio come quella di Italo Calvino e di Alberto Moravia che rappresentavano diciamo la parte illuministica che tendeva ad avvalorare la modernizzazione italiana e a sottoporla diciamo a una critica di tipo progressivo. Erano dei razionalisti convinti che recalcitravano anche al grumo oscuro, profetico, lancinante, poetico appunto di Pasolini. Dall'altra parte per esempio c'erano suoi vecchi compagni di via come Franco Fortini oppure fieri avversari e persino nemici dal punto di vista letterario come Edoardo Sanguinetti che leggevano invece la modernizzazione italiana dentro un'ottica di tipo marxista. Fortini sul versante della scuola di Francoforte, Sanguinetti invece più legato alla tradizione dei Lucacci e persino della terza internazionale. Oppure c'era un grande poeta e scrittore che Pasolini ha avuto il merito di leggere per primo e di avvalorare Paolo Volponi che dialogava con lui da una posizione particolarissima. Volponi scrive i suoi primi libri come Memoriale, La macchina mondiale da manager di vertice della Olivetti di Ivrea e riesce probabilmente a passare neanche all'interno di un discorso di dialettica ma è di scontro alcuni aspetti della vita in fabbrica della moderna produzione che Pasolini non poteva conoscere dal vivo. Del resto Pasolini diceva che lui non aveva coscienza di classe ma conoscenza di classe cioè non si accostava alla realtà come dentro un progetto algido matematico ma la conosceva attraverso il corpo delle persone che più amava spesso erano i ragazzi insomma che lui direttamente amava e l'elemento che lo ha sempre caratterizzato al di là di quella sua procurata maschera di reazionario è l'intuizione di una contraddizione profonda e non riconciliabile usava a proposito non solo della sua poesia ma anche del percorso dell'Italia moderna la figura retorica dell'ossimoro cioè della contraddizione tra due elementi che non possono mai combinarsi ricordiamo che sono di Pasolini delle metafore che sono entrate ormai nel nostro discorso politico di tutti i giorni che non vengono mai ormai ritenute delle metafore per esempio il palazzo e la piazza che Pasolini deduceva dai ricordi di Guicciardini e che folgoravano un paese sempre più distinto tra i luoghi del potere e quelli della vita quotidiana oppure una distinzione che pure ha fatto scuola quella fra sviluppo e progresso da un lato cioè la moltiplicazione dei beni di consumo delle merci ordinate nel supermercato dall'altro uno sviluppo che riguarda la qualità del vivere e dei rapporti tra gli esseri umani è quello diciamo che di più toccava Pasolini ed è alla parola progresso che Pasolini dava la luce della poesia quella luce che nel suo poemetto maggiore o comunque più celebre le ceneri di Gramsci Elghi diceva essere venuta a mancare anzi si chiedeva a un certo punto ma a noi a che serve la luce le ceneri di Gramsci 1954 vivo nel non volere del tramontato dopo guerra amando il mondo che odio nella sua miseria sprezzante e perso per un oscuro scandalo della coscienza lo scandalo del contraddirmi dell'essere con te e contro te con te nel cuore in luce contro te nelle buie viscere del mio paterno stato traditore nel pensiero in un'ombra di azione mi so adesso attaccato nel calore degli istinti dell'estetica passione attratto da una vita proletaria a te anteriore e per me religione la sua allegria non la millenaria sua lotta la sua natura non la sua coscienza è la forza originaria dell'uomo che nell'atto si è perduta a darle l'ebbrezza della nostalgia una luce poetica ed altro più io non so dirne che non sia giusto ma non sincero astratto amore non accorante simpatia come i poveri povero mi attacco come loro a umilianti speranze come loro per vivere mi batto ogni giorno ma nella desolante mia condizione di diseredato io possiedo ed è il più esaltante dei possessi borghesi lo stato più assoluto ma come io possiedo la storia essa mi possiede ne sono illuminato ma a che serve la luce ma in realtà Pasolini come legge e come percepisce fisicamente questa dialettica che non è una dialettica ma uno scontro secolare oramai tra lo sviluppo e il progresso lo legge nella perdita e usa una parola davvero grande temeraria del sacro in Pasolini e anche nella forma del suo stesso cinema c'è un tale amore per la realtà per il molteplice per i fenomeni dell'arte anche dell'arte anonima e popolare che l'uomo lascia nel suo passaggio da avere evocato il nome grande di Spinoza è sacro tutto ciò che è opera dell'uomo e Pasolini lo legge non solo nelle opere ed arte scritte nel suo profondo amore per la pittura e per i corpi della pittura Giotto Piero Masaccio Caravaggio ma nella forma della stessa città ci sono suoi filmati straordinari dove lo si vede parlare di Sanaa nello Yemen e della forma davvero magica straordinaria quasi intatta di orte alle porte di Roma e il sacro per lui è ciò che il tempo mantiene e che a sua volta l'uomo deve servare ciò che porta i segni del tempo ma che il tempo differisce in qualche modo lasciandolo in eredità alle generazioni e proprio per questo e allora molti diede fastidio ben inteso che la forma del discorso di Pasolini è una forma deliberatamente esplicitamente pedagogica cioè un discorso che mira non solo a comunicare a esprimere ma a persuadere e persino ad educare un grande poeta italiano di questo secolo suo vecchio compagno di via come Andrea Zanzotto ha scritto delle pagine straordinarie sulla poesia pedagogia di Pasolini un ottimo studioso di Pasolini come Enzo Golino ha scritto addirittura un libro sulla forma pedagogica della sua espressione è per questo che ad ogni passaggio di fase Pasolini mira a un pubblico molto molto definito che vede come referente pedagogico ideale sono i ragazzi dei campi del Friuli degli anni 40 sono i giovani sottoproletari di Roma ai tempi del suo arrivo a Roma dal 49 in avanti poi è la gioventù della cosiddetta società affluente con cui parla fustigandola tuttavia già a metà degli anni sessanta quando vede nei capelli lunghi degli adolescenti quando legge nella scomparsa delle lucciole il titolo di un suo celeberrimo articolo il sopravvenire di una società di cui egli ha orrore la società della plastica dell'anonimato umano del valore come prezzo Pasolini va alla ricerca di interlocutori esotici alla lettera esotici e sono quelli che abitano i film della trilogia della vita The Cameron racconti di Canterbury le mille e una notte sono i ragazzi del cosiddetto terzo mondo ma sono anche i ragazzi gli adolescenti delle sacche di emarginazione o di mancato sviluppo che egli trova in Italia in uno dei suoi ultimi scritti contenuto nelle lettere luterane che è l'ultimo libro saggistico di Pasolini uscito un mese dopo la sua morte e preparato da lui per Einaudi si rivolge a un ragazzo del meridione un napoletano lo chiama Gennariello nella vera e propria forma del trattatello pedagogico Gennariello è quasi un Emilio di Rousseau trapiantato in una sacca opaca oscura della società affluente e egli è quasi il Virgilio di questa giovanissima creatura che costantemente è messa di fronte alla maestà millenaria delle opere del passato e alla seduzione momentanea delle opere del presente a un certo punto Pasolini sente anche il bisogno di scusarsi davanti a Gennariello e anzi come mettendo le mani avanti di stracciare la maschera che gli è stata cucita che talora ha esibito provocatoriamente di uomo che guarda al passato addirittura di reazionario a un certo punto dice Pasolini a Gennariello capirai piano piano nel corso di queste lezioni caro Gennariello che malgrado l'apparenza questi miei discorsi non sono affatto lodi del tempo passato che io in quanto presente non ho del resto mai amato sono discorsi diversi da tutto ciò che oggi da parte di un uomo della mia età si possa dire discorsi in cui conservazione rivoluzione sono appunto parole che non hanno più senso come vedi sono dunque moderno anch'io del plurilinguismo di Pasolini della sua capacità di manipolare di esprimersi in ogni linguaggio in ogni falgia della della espressività secondo una lezione che dal punto di vista letterario rimanda a Gianfranco Contini e dal punto di vista figurativo a Roberto Longhi che fu il maestro della sua università a Bologna di tutto questo è il culmine la sua ultima opera uscita postuma Petrolio Petrolio è un oggetto letterario di tale forza di tale incandescenza che è difficile dirne qualcosa se non per allusione è qualcosa di molto più vicino alla divina commedia o ai cantos di Ezra Pound che ha un romanzo propriamente detto è un modo di entrare profondamente dentro la realtà e la storia di un uomo che da un lato è un artista dall'altro è un venduto alla lettera alla società neocapitalistica che egli va esperendo quasi come un dragamine dragandola nel profondo vedendone tutti quanti gli orrori e non è nemmeno un caso che Petrolio sia stato scritto negli stessi mesi in cui Pasolini girava a Salò come l'ultima frontiera della espressività e nello stesso tempo come unica possibile caotica enciclopedia dell'essere dell'esserci nella cosiddetta civiltà del neocapitalismo in fondo quando diciamo che Pasolini è stato un profeta quando abbiamo nostalgia della sua voce allora in falsetto talvolta sgradevole che ricorda il corvo ideologo socratico di Uccellacci Uccellini in fondo dico di che cosa abbiamo noi nostalgia ecco nelle parole rivolte a Gennariello forse c'è una possibile chiave quando Pasolini parla in maniera inerme di diversità nel rimpianto di Pasolini c'è una profonda esigenza al presente nel nostro presente di una diversità probabilmente di un'altra idea del progresso ma persino un'altra idea del nostro sviluppo del nostro vivere e provare a farlo tutti i giorni grazie a tutti Grazie.